In questa intervista a due parleremo di retroscena del secondo conflitto mondiale per quanto riguarda l'Italia, è un argomento assolutamente importante, la conclusione del secondo conflitto mondiale è quello che sta avvenendo in Italia, il quale è stato rivelato da tutta una serie di libri di cui consigliamo la lettura ai nostri amici, tra cui l'ultimo è il libro intitolato Doppio Rivello. Adesso partiamo da Piero Baroni che ci illustra tante eroiche geste di traditori per arrivare poi ad altre cose ancora più importanti. Allora, qui è il libro di Piero Baroni che avete visto, che consiglio perché ci sono delle trascene importantissime di quello che è successo prima e durante la guerra. Ieri ho avuto l'occasione, ho avuto l'onore di stare dalla famiglia Baistrocchi, cioè il nipote del generale Federico Baistrocchi, che per chi non lo sapesse, dal 1933 al 1936 fu al Ministero della Guerra con incarchi speciali. Il generale Baistrocchi, per chi non lo sapesse, era uno dei pochissimi generali italiani che aveva un senso strategico e geostrategico dell'operazione di guerra da fare, assolutamente avanzatissimi, anzi era uno dei pochissimi generali italiani a cui livello culturale e intellettuale era altamente elevato che non poteva sfigurare con i migliori cervelli della Wehrmacht. Ieri ho stato ospito appunto del nipote del generale Baistrocchi, la signora Graziella, la signora Gabriella, scusa, la signora Rosanna, le quali mi hanno fatto vedere una maria di documenti e di lettere. C'è una lettera importantissima che Baistrocchi ha scritto a Mussolini proprio nel 1936, dopo l'impresa etiopica, in cui Baistrocchi metteva in guardia Mussolini che siccome si stava ritirando il materiale nostro che ci serviva per la guerra, quindi si sbottò l'impero della sua difesa già da allora, e Baistrocchi mise in allarme Mussolini con una lettera e anzi lo criticò pure per quel gesto che purtroppo disarmò l'impero conquistato e poi dopo sappiamo quando va a finire nel 1941, quando poi gli inglesi ci hanno ricacciati via. Ti interrompo con due piccole considerazioni. La prima è che io ero a quell'epoca, parlo degli anni 40, ero piccolo, però in famiglia ho sentito più di una volta parlare di questo Baistrocchi, tant'è vero che Baistrocchi era un nome che girava molto all'epoca, quindi è evidente che il personaggio che poi fu contrastato da Badoglio fu contrastato in maniera notevole, era però un personaggio che aveva un certo nome, quindi quello che lui diceva era sicuramente simpito. L'altro aspetto, un aspetto mio familiare, perché mio padre andò volontario come ufficiale di infanteria nel 1940 in Libia, quando si prospettava la possibilità di uno scontro con l'Inghilterra, mio padre si trovò con la sua divisione, che era la divisione Pavia, che poi fu assolutamente annientata a El Alamein, si trovò a dover mandare in continuazione delle lettere di reclamo sul non funzionamento di nulla, assolutamente di nulla, non c'erano armi, le armi non funzionavano, era tutta una cosa terribile. Per tutta conseguenza delle lettere che mio padre inviava fu rimpatriato. Essendo mio padre farmacista trovarono una scusa che i sanitari dovevano ritornare tutti in Italia, come se nell'esercito lui non avesse potuto anche essere reimpiegato come farmacista, tanto per dirne una. Un vero sabotaggio. Esattamente, lui l'hanno rimandato a casa, non ci fu verso, lui voleva rimanere in Libia, non ci fu verso. Indubbiamente questa fu un'occasione per cui dobbiamo dire che mio padre ci ha salvato, perché probabilmente avrebbe fatto una brutta fine, come hanno fatto quasi tutti gli esponenti della pavia, cioè lì questa è stata una divisione che è stata completamente maciullata in quell'inferno che è stato erano amministrati. Queste sono due considerazioni che vanno dentro. Ritorniamo sulla faccenda. In effetti Baroni ritorna su questo argomento, questo libro tra l'altro è riperibile sul sito www.amazon.it, ha un prezzo molto molto basso e consiglio di leggerlo, perché qui non si parla solo di fatti, ma si parla anche di lezione, di che significa essere un comandante di divisione o di compagnia o di battaglione o di plotone, cioè fa capire il livello misero a cui era ridotto il nostro esercito come addestramento, come tutto, volutamente ridotto perché i signori e il loro signore avevano già deciso che noi dobbiamo fare una guerra e perderla. Nella lettera di Baestrochi, l'ultima che gli scrisse nel 1936, fu una lettera che poi è stata anche riporata da un biografo di Baestrochi, che adesso in questo momento non ricordo il nome, comunque c'è un libro su Baestrochi, e Baestrochi proprio denuncia queste cose e dopodiché lui viene dimesso dal ministro della guerra e quindi si ritira in poche parole. Ma non dimentichiamoci un fatto, Baestrochi fu quello che aiutò Mussolini da punto di strategico a vincere la guerra d'Etiopia, malgrado gli amici degli amici, come dice Trizzino appunto, che stavano per sabotare la guerra, invece con Baestrochi e anche grazie alla vigilanza di Mussolini questo in Etiopia non successe e Badoglio ci fu anche il concorso di Graziani, se Graziani non partiva, con le 100 caterpillar, le ruspe che comprò in America spendendo i 20 milioni di lire di allora, non avremmo avuto la vittoria così breve tempo che abbiamo avuto, che i loro signori non volevano perché il fallimento in Etiopia del fascismo avrebbe comportato l'immediata caduta del fascismo come avvenuto col fallimento del secondo conflitto mondiale, quando nel 1943 il fascismo era mai finito, la proposta fascista di carattere nazionalista e internazionale si era dimostrata fallace con la sconfitta e e con i nemici, con i piedi nemici in Italia esatto, bravissimo, proprio così, in effetti voglio dire, poi Baestrochi si dimise, siccome che Badoglio era in Etiopia e venne a sapere che Baestrochi ritrova Mussolini a vincere la guerra, Badoglio si vendicò, c'è una testimonianza che dice che Badoglio quando venne a sapere questa cosa qui, fece il gesto di uno che stacca la testa a un pollo e disse questa è la fine che vorrà fare a Baestrochi, infatti dopo i poteri forti, i taglioti, antinazionale fece processare Baestrochi, io ieri ho visto gli atti del processo dalla famiglia Baestrochi che sta a Roma in via Fratelli Ruspoli, è una cosa vergognosa, delle accuse infamanti insussistenti, insomma il generale che era un uomo d'onore, che aveva un grande senso dell'onore e oltre a essere un comandante vero, morì proprio di crepa a cuore, per l'ubilazione che subì a Napoli nel processo di Napoli, che poi il processo intende nel 1946, però lui nel 1947 morì perché ormai era un uomo a pezzi, aveva capito che l'Italia era finita, non c'era più l'Italia per cui lui voleva veramente grande, ma non dimentichiamoci che il fratello del generale Baestrochi, l'ammiraglio Alfredo Baestrochi, nel 1929 quando cominciò a sudorare che non c'era quel rinnovamento e che qualsiasi responsabile e cosciente capo di una forza armata doveva avere, perché come dice Baroni, un Stato maggiore che rinuncia alla ricerca, alla scoperta… Non so, perché quando ce l'hanno portata di mano non l'utilizzo ancora di… Allora dice che non si può più chiamare sbadattaggine oppure ignoranza, ma diventa se… ma se è, diciamo così… Diventa palese e tradimento Esattamente, diventa tradimento, se è continuativo, ecco, diventa palese e tradimento Allora è stato ampiamente dimostrato, e l'abbiamo già detto più di una volta, che il radar italiano non era assolutamente di peggiore… Era superiore a quell'inglese Ma addirittura, allora, il professore Ugo Tiberio, quello che veramente ha fatto il radar, diciamolo chiaro e tondo, il radar è una creazione italiana, Ugo Tiberio nel 20 giugno del 40 intercettò a 40 km da Livorno, dalla sede dell'Accademia Navale, degli aerei francesi che stavano portando Livorno, a 40 km li intercettò e non solo, nel 43 intercettò sempre con il radar, a 300 km, una squadriglia di bombardieri americani che stavano venendo in Italia a bombardare, e lui nel 43, nel giugno del 43, l'intercettò, va bene? Questo è un fatto di fatto, è riportato qui da Baroni con tanto di prova… E questo, guarda, io ti posso dare un'altra prova, adesso io faccio vedere un momento Ecco, questo per dire che l'Italia e i Romani sarebbero comportati in un'altra maniera Esattamente, noi abbiamo un esempio che è un po' brutto, che è appunto quello di un regime che si richiamava alla Romanità e che poi non ha fatto nulla di quello che diceva che avrebbe preso come riferimento, comunque andiamo avanti E questo per dire agli italiani che la memoria storica, e non bisogna mai rinnegarla, i Romani erano rappresentati nel massimo splendore dell'Italia imperiale Certamente, ma le tracce di Romanità sono rimaste fino ad oggi in Italia, ma non tracce soltanto archeologiche, anche nella mentalità, nella moralità, nel modo di essere, ci sono ancora i Romani in Italia Esattamente, però voglio dire, è un allarme per dire guai a quel popolo che perde la memoria storica, specialmente quell'italiano che ha una ricchezza storica e culturale assolutamente di primissimo livello, io mi ricordo che 5 anni fa ero in Giappone, alla vigilia di Capodanno la televisione statale giapponese, la NHK, la Lippon, Oso Kiyokiai, significa televisione giapponese, trasmise per ben 4 ore, dalle 7 e mezza fino alle 11 e mezza di sera, un documentario eccezionale sull'impero romano, cosa che in Italia io non ho mai visto no, non ho mai visto, ecco, questo Claudio regionario, pretoriano, che vedi qua, è un richiamo a chi ci ascolta a scoprire le proprie radici, a non rinnegarlo e a prendere come esempio, perché oggi di Romani, come dici tu, ci è rimasto purtroppo ben poco, perché se avessero avuto un po' di sangue di questi qua, di Romani, l'Italia non sarebbe quello che era, no, ci sono stati, ci sono stati, ci sono stati traditi, traditi e pugnalati alle spalle, diciamo esattamente come sono, come Giulio Cesare, ieri andando con la mia amica, lungo i fori imperiali, ho saputo che addirittura ancora oggi c'è chi a Lady di Marse, Porto dei Fiori, Porto dei Fiori dove morì Giulio Cesare, allora io voglio farti la promessa, te lo dico qui, l'anno prossimo, a Lady di Marse io verrò a portare dei fiori con te sulla tomba di Giulio Cesare, sperando che vengano anche altri amici, quindi ci organizziamo, ricordiamo, tra l'altro è stato il primo, diciamo così, quasi imperatore, perché poi Cesare non divenne imperatore, non divenne il tempo, è il creatore dell'impero, ma il creatore fosse un nipote, Cesare Augusto, questo va detto per la precisione, però è stato il primo creatore dell'impero che socializzò, guarda un po', infatti tu che sei romagnolo, lo sai che dopo la campagna di Gallia, cosa fece Cesare? No, la terra è legionaria, e quindi, ecco perché Romagna, perché doveva andare a Roma, no, quindi, ecco perché la Romagna... Non solo donò la terra ai legionari, ma c'è un altro elemento importantissimo che riguarda non solo la Romagna, ma anche l'Emilia, una tradizione che risale appunto alla Romanità è stata, tu hai parlato di terra, è molto importante, che ha inciso moltissimo sulla mentalità padana e soprattutto degli emiliani, degli emiliano romagnoli, la Romagna di Meno, è la suddivisione squadrata dei poderi, dei terreni lungo la via Emilia. Esatto, l'ho visto anch'io, ma l'alterò di più, questa tradizione c'è anche in Puglia, solo in Puglia vedi la stessa cosa più o meno, guarda questo è bellissimo, perché ricorda proprio come i Romani dividevano i terreni. Allora, non solo c'è questo, ma c'è quell'altro aspetto, c'è un aspetto, un sociologo che diceva appunto, la formazione, la forma mentis delle persone che vivono in questi luoghi è una forma mentis squadrata, molto chiara, molto precisa, tanto è vero che quella è anche la patria della meccanica italiana unica nel mondo. Beh, a Ferrara dove è nata? Eppunto, ma c'è tutto. Baracca dove è? Tu è romagnolo, il motore è romagnolo, il ballo è romagnolo, insomma la bella vita è romagnolo, vediamoci piano. E quindi c'è tutta una serie di aspetti che vanno vagliati, vanno presi in considerazione, perché sono sempre aspetti molto significativi e molto importanti. Per quanto riguarda il Giappone, direi che concludiamo qui, per quanto riguarda il Giappone, per dire il livello di ignoranza cui il movimento sociale teneva i suoi giovani, io di recente ho parlato con un ex attivista del movimento sociale il quale non sapeva che durante l'ultima guerra il Giappone era nostro alleato. Sì esatto, vuoi dire l'ultima cosa? L'ultima cosa vuoi dire? Io vorrei consigliare questo libro di Barone, non tanto per i fatti che racconta, ma lo vorrei consigliare da leggere soprattutto agli ufficiali e sotto ufficiale del nostro esercito, sia della marina, aviazione e esercito, per capire, ricosi per capire, che significa essere comandanti, che cosa significa la strategia e che cosa significa soprattutto l'intelligenza e saper guardare oltre il proprio naso. Cosa che purtroppo oggi in Italia... E che in Italia, ricordiamo altre cose che noi abbiamo più volte detto e che riguardano ad esempio l'aviazione. L'Italia è il paese che per primo non solo ha elaborato una concezione della guerra aerea e questo era abbastanza... Giulio II, esattamente. Non solo, ma è stato il primo a utilizzare l'arma aerea in guerra, nella campagna contro il Turchio. In Libia, nel 2011. Il compagno di litiga contro il Turchio. Quindi immaginatevi a che livello abbiamo parlato di radar, abbiamo parlato di aviazione, ci troviamo in questa situazione di merda e questa merda non può essere altro provocata che dai traditori. Esattamente, infatti io lo dispetto, questo libro qui, come ho detto prima, parla proprio di questo anche per capire come si è stato volutamente trascurato delle cose importantissime che nessun paese serio avrebbe trascurato, sapendo che comunque era nel mirino, perché l'Italia era nel mirino quando Mussolini andò al potere, prendiamoci chiaro, ma era nel mirino non perché c'era Mussolini, era nel mirino perché le idee di Mussolini, le idee sociali di Mussolini erano pericolossissime per loro signori. E' naturale. Ecco perché. Quindi qui i baroni... Ah sì, ma il fatto che l'Italia si trovava nell'epicentro... Ecco, io invito gli ufficiali e sotto ufficiali delle forze armate italiane, anche le polizie carabinieri, che poi i carabinieri sono forze armate, non dimentichiamolo, e oltre ai cittadini qualsiasi, di andare sul sito www.amazon.it e trovarsi questo libro. Questo libro deve essere tenuto a casa da ogni italiano degno di questo nome. Come i libri di Trizzino. I libri di Trizzino e anche altri libri di Baroni che io ho già parlato, che sono importantissimi per capire i veri documentatissimi introscena della nostra sconfitta. Attenzione, Baroni non è un politico, questo non è un libro politico, questo è un libro di fatti e di buonsenso. Se uno legge lo capirà da sé. Io non voglio fare pubblicità a Dottor Baroni perché non è questo il mio intento, ma è una persona onesta, che non è assolutamente uno speculatore, ma ha una grande e forte passione per la propria patria, come me, come te e come pochi altri, e vuole far capire che cosa è veramente successo e perché. Ci aggiungiamo anche, se penso che sia ancora reperibile, l'ombra di Giuda di Caporilli. Caporilli, ecco, però se l'ombra di Giuda di Caporilli è di Trizzino, nove poltrone, il settembre nero e gli amici dei nemici, come anche il trattatore in divisa, ma come anche altri lavori di Baroni, non dimentichiamoci, la patria venduta, la fabbrica della sconfitta, il condottino della disfatta, la vittoria tradita, la guerra del radar e l'8 settembre il tradimento, che sono libri che si possono trovare anche in rete tra il lettore Settevo Sigillo e l'editore Greco e Greco, sono libri che chiunque qualsiasi italiano che vuole capire la propria storia e perché siamo arrivati a questo punto, che li dovrebbe tenere nella propria biblioteca o quantomeno come libri di punto di riferimento, perché specialmente poi il libro principale che poi è dato là a tutti, non dimentichiamoci, che è stato quello del grande Pietro Caporilli, ripeto, gran zottolinio, l'ombra di Giuda, che lì veramente i conti quadrano, come poi dopo c'è Trizzino, sappiamo che Trizzino poi nasce da lì, nasce da lì perché quando ci fu lo scandalo che Caporilli scoprì che l'ammiraglio Maugeri, per chi non lo sapesse, era il capo dei suizi di formazione militare durante la guerra e che fu carceriere di Mussolini alla Maddalena, sì, e che poi ha scritto anche un libro su questo fatto, è una bella faccia di puntine, di merda, esatto, ebbene Caporilli scoprì che Maugeri in America pubblicò un libro in inglese, From the Ash to the Disgrace, cioè per le cene di disgrazie, e non è chiaramente il coraggio di pubblicarlo in lingua italiana questo maiale, con tutto il rispetto per i maiali ovviamente, esatto, un maiale maledetto e si vergognò di fare tra l'altro un libro in italiano, e lo scoprì Caporilli tra l'altro suo mico in America, ci fu un processo contro Maugeri e poi Caporilli alla fine comunque lo vinse, anche se poi la magistratura diede una sentenza strana perché noi non dimentichiamacelo, ripeto, non dimentichiamacelo, siamo sotto la cappa dell'articolo 16 del trattato, al meglio, del diktak, del diktak, il diktak di Parigi del 10 febbraio 47, poi un momento, quello lì non fu un trattato di pace e non si chiama trattato di pace, quello è un diktak, perché il trattato di pace è una cosa che discutiamo tra perdente e vincitore, il vincitore impose una sua linea che oggi, per chi non lo sapesse, quel trattato, nessun governo di questa maledetta Repubblica dal 45 ad oggi la mente non c'ha, e quindi ancora in vigore, questo va detto con la precisione. Non solo, ma a questo punto ci mettiamo un altro aspetto che è molto importante, che è l'equivoco della resa di Cassibile, perché è proprio attraverso questo sistema che è stato potuto poi imporre questo pseudo trattato, perché qualora ci fosse stata una autentica sconfitta, come voleva Mussolini, Mussolini voleva trattare la resa, ecco perché l'hanno ammazzato, voleva trattare la resa per poter fare un trattato di pace. E allora, qual è stato l'equivoco da cui poi è nato l'attuale trattato di pace? E' stato proprio questo, che cioè hanno fatto un trattato di armistizio, siccome era un armistizio, gli angloamericani hanno messo praticamente tutte le imposizioni che volevano. Esattamente. Dopodiché il trattato di pace dopo di quello è non stato altro che una ratifica di quella... Sì, esattamente, quello è Cassibile, sì. E quello è tutto, il discorso. Infatti c'è una dura reprimente dello storico Piero Baroni, che non dimentichiamoci, Piero Baroni è stato giornalista di Rai 2 inviato all'estero, assolutamente politico, basta leggere il suo libro per rendersi conto, lui non guarda in faccia nessuna, anzi anche su Mussolini qui ha delle parole molto dure, perché dice un capo di governo che ha letto Machiavelli, perché Mussolini nel colloquio... Non solo ha letto Machiavelli, ma c'è il libro di Machiavelli, il primo, commentato da Mussolini, esattamente, che poi lo commenta pure nei discorsi che fa con De Begnac, un libro bellissimo da leggere con De Begnac. Allora uno che legge Machiavelli, il principe, e poi lo commenta e si comporta tutto l'opposto, veramente è una cosa che io ho ancora oggi, con tutta la stima che ho per lui, per quello che ha fatto per l'Italia, ma però non posso capire questo comportamento, perché è una cosa che ti fa diventare pazzo, cioè tu non riesci a capire il perché, anzi se qualcuno che ci ascolta ci desse una spiegazione su questo suo comportamento o quantomeno, no, su questa sua perdita di concentrazione, perché lui comincia secondo quello mondiale, Mussolini, e non è concentrato come la guarda d'Etiopia, la guarda di cinque anni prima con l'Etiopia, era concentratissimo, ricchiamò... Quindi Cristino ha fatto un'ipotesi di una particolare malattia di Mussolini, ma non credo... Ma la malattia fu smentita, perché il dottor Zaccheria, quando Mussolini era al nord a Salò, gli fece una vista e lo guarì da un bruciore di stomaco, non era ulcera, era soltanto una questione psicologica o di farmaci che pigliava prima... ma più rovina di così, a chiunque gli sarebbe venuta l'ulcera... Sì, ma infatti, bravo, certo, ma infatti, come no, altro che, comunque c'è un libro bellissimo di Gheorghi, Zaccheria, il medico creato di Mussolini, che non dimentichiamoceli, lo mandò Hitler, ecco, si intitola Mussolini si confessa, editore Garzanti, questo è pubblicato anche dalla Burdi Mondadori, è un libro... Soprattutto il capitolo del biosocialismo, lì c'è la chiave perché scoppiò la Seconda Guerra Mondiale, praticamente la Seconda Guerra Mondiale è scoppiata per Mussolini, perché lui non faceva intralazzare i grandi magnoni che oggi ci mettono lo spread, perché il nemico numero uno dal punto di vista politico non era Hitler, ma era Mussolini quello che andava prima di Hitler eliminato, Hitler sì, era anche lui pericolosissimo, però il signore, perché sappiamo cosa ha fatto Hitler in Germania, è stato nazionalizzato la Reichsbank, la banca del Reich tedesca, quella fu la causa principale che fece scappare, però Mussolini era pericolosissimo anche per altro motivo, aveva dei carteggi, oltre solo quello di Churchill, quello dopo Stalin e Roosevelt, che ancora oggi, alcuni stori stanno indagando che sono i cassetti chiusi a chiave, perché molti... Molti di questi in Vaticano? Il Vaticano esattamente, ma poi bisogna dire una cosa che molti questi documenti, solo in America, non li fanno vedere, questo l'ho avuto prova, anche devo dirvi che l'ha detto, ma diciamo che io quando parlai con lo storico Frago Bandini nel gennaio 2002, me lo conferma anche lui, e mi disse, è venuto che andate indietro al carteggio Mussolini di Cerce, che si può intuire cos'era, ma quello che conta, disse, è il carteggio Mussolini Stalin, oltre con Roosevelt, che lì ci sono dei chiavi molto interessanti, non dimentichiamoci per ricordare che Vittorio Mussolini, quando nel 1937 fu fondato a Cinecittà, tra pareti Cinecittà è stata la Hollywood in Europa, esattamente, non dimentichiamoci dei grandi film prodotti a Cinecittà, Vittorio andò in America, e quando Roosevelt seppe che andò in America, che Vittorio deduce in America, lo chiamò a Casabianca per un primo colloquio e proponendo a suo padre di incontrarsi nell'Atlantico, Mussolini rifiutò, ma perché rifiutò? Perché secondo me lui sapeva il motivo per cui doveva essere invitato, cioè lì era presa per i fondelli, perché ora voleva colpire le forze dell'Asso una volta, prima Germania e poi l'Italia, ci lusingavano come fece il primo guerra mondiale, con delle cose che poi non ci concessero, e poi c'era il posto nato, uno a uno, tutto qui, e come dimostra Baroni, per chiudere, se il nostro generale aveva fatto proprio dovere, la guerra durava per l'Italia massimo un paio di mesi e era finita, vittoriosa per noi, e invece vi saluto e questo è tutto. Speriamo che i nostri amici ci seguano con la stessa attenzione con cui ci hanno seguito fino ad oggi. Speriamo bene.